Eccoci tornati con un nuovo video. Oggi non parleremo di questa scatola, perché ho appena finito di registrare un video. Ok, oggi parleremo delle calamite attaccate nel nostro frigo. Direi di non aggiungere altre, iniziamo, perché sono un bel po'. Allora, cominciamo con queste qui di qui. Questa, se non... Ah, sì, questa gliel'hanno regalata a mia mamma e mia zia, a mia nonna. Che sono sorelle. A mia nonna. E c'è scritto, se le mamme fossero fiori, tu saresti quello che incoglierei. È molto carina, anche tutte queste raccontano. Questa è molto carina, ricorda tipo le mamme, che diventano fiori, non lo so. Questa è la mia vita. E c'è scritto, quando contro le mie fortune, ti considero sempre due volte. E questo mi ricordo, quella che ha messo a mia zia, perché mi ha parlato di queste calamite. E qui c'è scritto, le sorelle sono fiori, diversi, cresciuti nello stesso giardino. E ricordano le sorelle, mia zia e mia mamma. Poi qui c'è questo fiore, che gli hanno dato... Gli hanno dato... Gli hanno dato a mia nonna, tutte e quante. Gli hanno dato a mia nonna, tipo per una nascita, non lo so. Poi qui c'è un'altra calamita carina rotta, peccato. Con una coccinella, carina. Poi c'è qui Babbo Natale, una farfalla. Poi qui c'è la cosa che... Se guardate il video di prima, che sta caricando sul canale. E mi ha accoggiato e vi ho fatto anche vedere che la mettevo. Poi c'è qui... Questa non l'avevo mai vista. Poi qui, questa è molto bella. Questa è del compleanno di 4 anni di mio cugino Riccardo. Con Mario, carina. Ah, lì ci sono anche il matrimonio di mia zia. Questa è di una nascita di una bambina. Poi qui c'è un cuore carino. Qui una coccinella, una tartaruga. Ah, questa è della nascita di mio cugino. È rotta, questo era un biberon. Qui questa abbraccia era il capoccezzo. Non so come si chiama. È molto carina. Poi qui, questa l'hanno sempre regalata a mia nonna. Questa è tipo carta, non lo so. Coccinella. E questa è della nascita, mi pare mia. Carina. Peperoncino. Mucca. Ah, e qui ci sono delle cose. Tipo qui, mia zia, mia zio. Mia zia, mio zio. Mia zia, mio zio. Mia mia. Tutte le da nascita. Ah, questo è di un compleanno. No, della nascita. Il battesimo. No, battesimo. Ma questo era di giorno. Sì, il battesimo. Del fratello di una mia amica di nome Alessandra. E questo piccolino si chiamava Cristian. Da qui il gattino che si sta facendo. La doccia rosa. Scarpette. Lì c'è una cosa che non riesco a leggere. Vabbè, in un'altra lingua. Lì sembra una cosa di qui. Comero. Un'altra calamita. Questa non so bene cos'è. Madrid. Qui due. Bu, non so cosa sono. Elefante. Penso che una cosa. Il Colosseo di Roma. Qui un'altra calamita. Ventaglio. OST. Questo non c'è dentro niente. Altra calamita. Una sola. Quanto maso. Scusate, mi ha ringraziato. Mia zia sono andata perché è successo qualcosa. E niente, queste erano tutte le calamite. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace se vi è piaciuto. Commentate, iscrivetevi. E al prossimo video. Ciao. Ehi, non si stegne. Scusate, rimanete qui con la farfalla.